È stato il mio terzo gol stagionale, fortunatamente per la squadra col mio gol siamo riusciti a sbloccare la partita, dopo si è incanalata bene, abbiamo finito il primo tempo sul 2-0 e poi siamo riusciti a chiudere la partita finendo 4-0. Sapevamo che sulla carta poteva essere una partita un po' facile, però con queste partite corre il rischio a volte di sottovalutarle, invece l'atteggiamento è stato quello giusto e siamo riusciti a chiudere la partita in fretta e dopo gli ultimi 20-25 minuti mi hanno ottenuto la palla anche in previsione della partita, l'ultima partita di campionato col Sassuolo di domenica. Sicuramente gioco più avanti, adesso gioco a centrocampo quindi ho più occasioni, magari qualche tiro da fuori così e poi ho avuto la fortuna a Napoli di trovare questo gol di testa e diciamo che una volta che trovi il gol piano piano arrivano anche gli altri. Grazie!